Questi sono degli auguri speciali per i nostri follower di Clubhouse che ci hanno seguito e che ci seguono ormai da un bel po' di tempo. Si è creata una forma di amicizia, di collegamento, un po' di cuore che va per quanto mi riguarda, ma so che lo stesso anche per i miei colleghi o per gli speakers di Clubhouse, anzi di Semi di Luce, so che è lo stesso. Si creano dei legami di cuore e come sempre quando noi stiamo nel cuore abbiamo tutta una serie di possibilità di comunicare con con gli altri. Qui vedete un musetto che spunta, Merlino, che è venuto anche lui a farvi gli auguri. Vi ricordo che il Natale è un momento meraviglioso di collegamento con gli altri, di condivisione, di affetto, di stare nel cuore, che è lo strumento migliore che noi abbiamo di collegamento con gli altri. Quindi non voglio farvi particolari o darvi particolari consigli. Mi limito a dirvi godetevi il vostro Natale, state con le persone che amate, state nel cuore e tanti auguri di Felice Natale, di un radioso anno nuovo e grazie di seguirci e di stare con noi. Ciao a tutti. Love su Rabi. Buongiorno followers di Semi di Luce, sono Marta, Marta Anzolla, con lei che vi sveglia al mattino. Vorrei prima di tutto ringraziarvi, ringraziarvi perché ci seguite sempre e augurarvi buone feste, buone feste, buon Natale e passateli serenamente e in armonia. E vi lascio con un mudra, un mudra di prosperità, un mudra di buoni auspici, un mudra di buone intenzioni. Quando lo fate metteteci le vostre migliori intenzioni affinché possa succedere quello che pensate. Mano sinistra all'interno della mano destra, in questo modo, pollice e indice si toccano di ambedue le mani e le dita, le altre, sono morbidamente una nell'altra. Quindi le mie mani si sostengono, spero che vediate bene l'impostazione, in questo modo. Cercate di essere rilassati, non dovete avere tensioni e quando fate questo mudra, state un attimo in silenzio, centratevi, portate tutte le vostre buone intenzioni. Detto questo vi auguro un sereno Natale ancora. Ciao! Followers di Semi di Luce, buon Natale e il mio augurio per il 2022 è questo. Il mondo, realizzazione totale di tutti i vostri desideri. Ciao, sono Stefania del Club Semi di Luce, ormai ci conosciamo e con tanto piacere vi faccio tantissimi auguri di buon Natale e serene feste. A tutti i nostri carissimi amici del Club Semi di Luce, finalmente il nostro Natale insieme, distanti ma uniti, uniti dal cuore, uniti dall'amore e da tutte le esperienze che abbiamo vissuto insieme, tutti i momenti che abbiamo condiviso, quelli belli e quelli meno felici. Ma sicuramente questo ha aiutato a moltiplicare l'amore e a limitare, seppur per poco, anche un po' le sofferenze. Quindi con una nuova consapevolezza, con una nuova forza e sicuramente un'esperienza grandiosa, siamo pronti per iniziare un nuovo anno, speriamo molto più felice di questo e io per ora con il cuore vi auguro un buon Natale, un Natale sereno a voi e a tutte le vostre famiglie. Ciao ragazzi, con questo messaggio vi volevo salutare e fare tanti auguri di buon Natale. Mi mancate tanto e ritornerò in qualche modo e adesso che arriva Natale si fanno un po', tirano le somme. Io volevo dirvi questo, è un periodo che ci spinge un po' a essere più buoni con gli altri, con tutte le persone, ci sentiamo in colpa, cerchiamo di essere un pochino più dolci. Io voglio dirvi questo, siate buoni soprattutto con voi stessi, specialmente se state affrontando delle cose nuove, delle sfide, non criticatevi, non siate cattivi con voi stessi, siate buoni, cercate di comprendere che siete nel processo, ok? Quindi tutti gli sbagli che fate, tutte le cose che non vi perdonate servono a diventare poi quello che vorrete diventare. Quindi gli sbagli e le cavolate che fate, che magari non vorreste fare, servono, servono per farvi diventare la persona che poi diventate. Tanti auguri a tutti, un bacio. Che dire tutti i meravigliosi, tanti, tanti, tanti auguri di buon Natale da me, Anna Scolari, la grafologa e da Semi di Luce. Augurissime ma anche di buon anno. Tantissimi auguri per un Natale sereno e felice, ma soprattutto vi auguro un 2022 pieno di salute, amore e serenità. Auguri a tutti. Grazie. 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 Grazie.